Non c'è una cosa che è andata bene, purtroppo è stata una giornata completamente no sotto tutti i punti di vista, sconfitta strameritata contro un avversario che sotto ogni punto di vista ci ha surclassato. Mi auguro sia una di quelle giornate che possono capitare durante l'anno, la verità è che come volevasi dimostrare non conta chi è davanti ma conta quello che metti in campo. La situazione è sotto gli occhi di tutti, siamo in difficoltà dietro perché purtroppo siamo contati e chi c'è ha dei problemi fisici, ma questo non dipende solo dalla società, non si può prendere tanto per prendere. E quindi vediamo che cosa succede, la società lo sa, penso che ci stia lavorando, vediamo un po'. Io sono il primo che sto davanti, mi prendo le mie responsabilità, probabilmente ho pensato a qualcosa che è andata a storto, sono stati più bravi gli altri, prendiamo, impacchettiamo e portiamo a casa, che sia di lezione per il futuro, e continuiamo a lavorare, continuiamo sul nostro percorso. Purtroppo è una sconfitta amara, abbiamo perso una grande occasione, ma niente è perduto, testa alta, sicuramente da domani vedremo gli errori che abbiamo fatto, ma non è successo niente, ancora più vogliosi di prima, con la stessa cattiveria di sempre, sia nella vittoria che nella sconfitta bisogna andare avanti dritti. Andare la sosta dopo questa sconfitta è un po' brutto, però ti ripeto, ora recuperiamo energie, abbiamo tempo per vedere dove andare a migliorare o intervenire su qualcosa alla società.